Julian Zenger libero di Pallavolo Padova dopo questa partita di oggi in cui ha vinto Trento per 3 a 0. Prima di tutto, che emozioni nel tuo ritorno qui a Trento? Sì, bella emozione. All'altra parte sono tanti amici, quasi la stessa squadra dell'anno scorso, quindi sono felice di essere qui e giocare contro loro. Che cosa secondo te dovrete migliorare di più da quello che si è visto stasera? Comunque il primo set forse è scivolato via velocemente, però nel terzo siete stati lì a contatto. Cosa ne pensi? Sì, eravamo in troppa difficoltà nel nostro side-out. Abbiamo preso i topi ace, dopo la recessione staccata è difficile giocare dopo una squadra così forte. Sono bravi al muro, bravi in difesa, così è difficile. Ancora abbiamo bisogno di due set per iniziare il nostro gioco e poi nel terzo tutte le cose vanno un po' più meglio, però è difficile se abbiamo sempre solo un'occasione di vincere un set. Grazie mille a Julian Zenger. Grazie, ciao. Grazie a tutti.